Ciao a tutti ragazzi e o ragazze, terza partita online a Trackmania Nathos Forever Come sempre video commentary, ma non solo, come non c'è Naslaki come nei precedenti due video Ma c'è un altro utente, che si chiama... Loreo World Ok, come sempre, ecco, già sono andato a sbattere, cominciamo già bene Perfetto, tu si che sei un pro Da notare la musichetta che mettono sotto Ah, da notare che mi sta caricando il giusto, non è andato tutto Ecco, parti Sì, come cacchio voglio farlo, mo' questo Ehm, da, che cacchio Ah, comunque, tra poi i secondi la gara finisce, quindi tanto, non ti impegnerai più di da un No, che cacchio vai Ehm, mi chiedeva, non ti impegnerai, non ti impegnerai Ma io, non so, mi vede tipo... Mi vede, insomma, malissimo si vede, non so perché E io vedo bene la gara invece però è finita Sì, sì, infatti me la... Oh, adesso sta caricando bene Oh, perché tu sei quinto e io so sesto? Allora, questa cosa già è capitata una volta Nessuno, io e un mio amico, nessuno di due aveva finito la gara e eravamo già... Io ero sempre ultimo in fronte a lui, vabbè Sì Eccidante Sì, ecco Ehm, caricati Ok, non so perché, ma... Mi lega Trackmine, un smartphone è disponibile in Europa al prezzo di 29,99€ Ah, chi se ne prego? Ehm, io me lo scarico gratis Giusto Ma non puoi giocare online se te lo scarichi gratis Giusto Eh, il problema è che... Il problema è che prima cosa lagga, seconda cosa scarichi... Seconda cosa non schifo Allora, vedi Ma partiamo vacca ragazzi, sembra sto coso del framerate troppo basso Non... allora fai Se ti esce framerate il gioco basso, no? Fai... Eh, mi esce, mi esce Non chiedi più eso Eh, già ce l'ho messo E fai annulla, non ok Perché se fai... Se fai ok Ti si resette i gioco Io l'ho fatto mentre registravo Sì, sì, lo so, infatti come se non chiedermelo mai più Io sono sesto, ragazzi Diamo qui Qualcuno che si schianta, così come... Ok, non so come abbassare l'audio Io non so come... non so laggare sto gioco Devi abbassare la qualità... Dall'impostazione... Eh, ok, dove Vabbè, senti, io favo dopo Ok, giusto Allora, come vedete Prendo male un po' la curva, però Arriva il curvone che sarebbe il coso Del computer che è eccezionale con il suo termino Mi va... Cioè, io ti finisco, sono contento perché Cioè, ti finisco, sono un mito Guarda, nonostante io Un computer... Bellissima, cioè... Minecraft Milagro lo stesso, praticamente Il problema è che Minecraft è stato... Allora, Minecraft è un gioco stupendo Però quel... quel ciccione... Lardoso di nocci, no? Lo ha... Lo ha creato in Java Ah, sì Che praticamente... Lo so Ogni cosa con Java... Tende a cresciarsi... A bug... E ste cose qua È bello questa musica che sta sotto, eh Io lo sento Ero l'audio... Sinceramente adesso mi... Oh Continuo Si mi ha vantato Non ho capito Non ho capito Chiari 3D, non ho capito Non ho capito Il giocatore... Si diventa arbitro Ah, sì, ecco, scarico, ma... La cosa... dove devo andare? Allora... Esk e poi salva... No, lo trovo Esk Offizioni avanzate e salva fiski Ho capito, salva salva... Lo ha disabilitato da sepe Non puoi scaricare Non puoi scaricare Non puoi scaricare Non puoi scaricare Ti puoi scaricare Ti puoi scaricare che ti avevo detto io prima Scusa Stai giocando con la tastiera o con il joystick Io con la tastiera Ah... Allora... Ma comunque si abituato con la tastiera eh Eppure io all'inizio quando giocavo a Trackmania con la... Mi avevo abituato a giocare con la tastiera Poi ho preso i joystick Vabbè... Io faccio il traceto che arrivo a... Non so... Due minuti e venti Questo succede Ah... Una cosa che non ti ho detto di questo gioco Perché praticamente Non... Non ti crede che i circuiti siano... Facile Vabbà Ho visto quello in line Comunque guarda A me mi sta allegcando sicuramente C'eramente per una cosa per tutti chi Skype acceso Questo po' lo non si vede Quando spengo Skype allora vuol dire che il server è lontano Bellissimo! No! No Ho fatto un'acrobazia... Ho fatto un'acrobazia folle E... Sono ancora in piedi e ho continuo Mi incastro sotto... Perché arrivare? Mi incastro sotto al checkpoint Io invece... No, io voglio fare... Voglio finire questa ma... No! 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 Gommina sotto Oh cacchio è partito il gommino Sono andata a sbagliare Aiuto che lag! Comunque sai quando è che non laggava? No! No! Quando giocavamo in due Non è laggato di niente proprio Tu laggava E' perchè stavamo solo io e te Vuol dire che la mia collezione Che già sto lontano Dove dovrei stare Olevati... Olevati ingombino più presa con sull'anato Io non ci sono mai a finire questo tracciato Anzi mai un tracciato il filo Questa che ci sto Ma c'è una bella cosa Dimmi Tra... Dieci secondi finisce la gara Io ti direi di uscire e cambiare impostazione Eh! Va va! E' quello che sto facendo Metti la risoluzione a 1280 x 320 E poi abbassa Poi tipo puoi levare le ombre Poi vedi al primo posto quella che c'è la macchina mondata E' cioè abbassa la qualità Però fallo adesso prima che hai scelta la schermata di caricamento Con figura? Poi... come il video? Avanzate! Sì, 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 sì Dico com'è che devo farlo su sui schermi Il saluto è 1280 x 720 Perfetto Poi performance qualità Ehm... metto più veloce, normale, migliore Praticamente Veloce Più veloce Vabbè poi avanzate Eeeh... su display, audio, gioco, tasti, scusa display Cosa? Oddio, su display Cosa devo mettere? E ho visto che sono stati due giocatori Sì, ok Nel frattempo io ne approfitto per dire che ci sono state un po' di... Interruzioni di gioco da parte nostra Vediamente Che mai è stato in questa mappa? Ehm... facciamo... no No, 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 no Così ma comunque è facilissimo Io molte ma... molte piste del server Di questo server la... le ho fatte Ecco ne approfitto per dire che siamo nel server Milano Pro Mini Che però è... come vedete Si è abitato Così possiamo dire Come vedete dalle... dalle varie cose E' privo di giocatori Infatti siamo solo io e loro Non si sa perché Non si sa perché Non si sa perché Non si sa perché Non mi lagga Facciamo... Soprimo E' certo che ho fatto la cosa che Milano Quanto? Dove sta il coso? Aspette, aspette, aspette Dove sta? Quanto quanti si sa di fatto? Eeeh... Quaranta e non mi ricordo che C'è stato scritto comunque l'altro destro Quaranta e trenta sette Hai fatto quattro e sessanta Ok, quella prende male Ce la fa l'affa? No, non ce la faccio Eh, ma 36 secondi ce la fai in 36 secondi E' stai in prosi Stai in promini Ecco, la pia benissimo la curva Qua ti fa un secondo di più Vediamo come la pia E' ancora meglio No, un po' faccio Quindi sbatte Qui lagga E... Poi lo vado a battere A tenere che lo vado a superare Lo vado quasi superare Gli sta dietro Alcune gli sta dietro Alcune, attenzione, lo soppassa Lo soppassa E' che io so partito pure prima So partito pure dopo di te 3 Ah, adesso 2 vaffanculo Oh Oh, e al primo post c'è? Un po' vuota sta la prima volta Tutto vuota Tutto vuota Di 37 Guarda, è solo di... 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 di un secondo Ma perchè adesso mi ha... mi ha zerato il coso? Mi ha zerato il time No, ci sono usciti gli LP E gli LP non... non l'ho mai fatti neanche uno C'è l'EP Allora, facciamo sì... Ehm... facciamo un'altra pista... un'altra gara qua e poi... tentiamo di andare in un altro server, va Siamo... non so Sempre in dialia però Sì, sì Tipo... 5, 6, 7 giocatori O così circa Anche meglio Per te, eh Non per me Per te Beh, non lo so Ma guarda... se... guarda... se io mi sarei spostato... adesso e... guarderemo cazzone c'era per telefono... anche pure... mi avrebbe raggato Ti devo sempre ripartire? Perchè Normalmente... Io parto, parto e... bella pista potrei dire No... Fino a un certo punto non... non rilasciare l'acceleratore E vado a sbattere In un certo punto... anzi o meglio in un certo senso... o vado a sbattere... Ah, ci ho sprossato... E lo supera di questo Eh, ti... eh, lo supera... eh... Il messaggio framerate è un po' basso Mi vanto, mi vanto, mi vanto Sono primo al checkpoint Eeeh... Non sono più primo al checkpoint Riparte... ah, c'è... Ci parte anche... Da Raw War Riparte Ver... Ver... Veramente... eh... Una cosa... Fattesca e ce la fa Stiamo a fare tutta velocità... A quanto si può notare bene... O anche male No, 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 ricomincia Nel frattempo... mmm... Ho... ho cannato il checkpoint Ho... non ho beccato il checkpoint Eh, che vale su framerate... non chiederlo Io la prossima volta che... me... mi richiede... che cado praticamente... O Yoko è uscito dalla partita Yoko Yoko Ah, intanto... finalmente abbiamo... Gente... Yoko Yoko Io direi di... Di farci un'altra partita su questo server Visto che ne è arrivato uno Perché allora... Aspetta... mi avanzate, scusa un attimo Eeeh... E salvapista, ok, dimmi, dimmi... No, disabilitato, assoluto Disabilitato? Disabilitato Ho sto Yoko Yoko E italiano? Eeeh... sei Yoko 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 Eh... eh... hai capito Yoko 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 Hai visto la bandiera all'inizio? Non è italiano Eh, fai lì apposta Ah, l'ho superato L'ho superato No, l'ho superato Oh... Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio Ce la faccio, ce la faccio E' super velocità, ce la faccio E' super velocità, ce la faccio Ho visto la macchina tua che sta ingastata Io mi... Lo esibisco in un'acrobazia terribile Praticamente sono riuscita a sorpassarlo Dopo non ci ho capito un cazzo Praticamente è impossibile Lo vede bene Cioè, se arrivi tutto dritto Poi, vabbè Vabbè Tocca sempre lasciare l'acceleratore Qua adesso, in questo punto E poi andare verso sinistra Perfetto, questo pezzo lo so, Memo Poi questo qua, pezzo di sopra Non capisco come cazzo farlo Arrivo qua, tutta velocità A 9000 all'ora Poi vado qui sopra Non capisco più un cazzo Ah, un bel accovito Un donare al lato Fica sta lista Perché non si può scaricare? Eeeh E che cacchio Vado sempre a sbattere sui... Su quei... Robi là Eeeh Metti abito allenanti Grazie Prego Molto gentile E anche un'altra... Siamo in quattro, comunque Oh, finalmente Finalmente Quello davanti sei tu? Quello davanti sei tu? Sei appena partito? Sì, si sa appena partito E certo E allora quello davanti sei tu Guarda la mia... Le mia... La mia classe No, va a fanculo Casse di merda La classe non è acqua E che è la... Si parte Oh my god! Oh my god cosa fa un flip flop a T60 Un flip flop 360 Un flip flop non si è mai sentito un'acropazia A meno che non ha una cosa del gioco Eeeh Prendi check point un po' maluccio però Prendi check point un po' maluccio però Prendi check point un po' maluccio però Prendi che lo sono inventato Ok Facciamo una... Una cosa alla cazzo di cane Che sarebbe... La patata di cane Ma bisogna... Eeeh dai! E vaffanculo ciccio Ma bisogna entrare in quel buco una volta che hai fatto... Quella cosa va a 360 Si Eh hai fatto quello da 360 Poi vai a sinistra Cioè vai a sinistra appena vedi che sta scendendo Poi si scendendo vai a sinistra e... Vabbè vai poi la continui proprio tutto dritto Eh il buco lo devo be... lo devo beccare Allora io lo sto qua e... Sii! No! Sii! No! Sii! Praticamente gli andai verso destra Perchè non fai infatti casca la macchina Perfetto come ho fatto adesso io Che non puoi vedere perchè sono troppo bella Ma mi sa che t'ho visto Eh ma mi sa che io mi sa che ha portato Però ho vado troppo piano per andare sopra questa merda E mancano 40 secondi alla fine della gara E nessuno ancora... Eeeh E comunque hai visto eh Ho fatto intralleggente Hai fatto intralleggente Abbiamo fatto intralleggente E' perchè quando... quando hanno visto i giocatori Sono in due Comunque nessun italiano entrato Nonostante... Eh... Sì! No! Sì! 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 No! No! Sì! No! Sì! 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 Stavolta veramente sì! Perchè... No! Non è perfetta! Mancano 9 secondi al lancio Ma vaffanculo ho preso il buco va! Ok! E come vedete... Il primo è Nataffa che è entrato per ultimo E ragazzi devo dire questa cosa che... Ma se... Bellissimo... Che entra per ultimo diventa primo Quello che si chiama Yoko Pocchio Pocchio Ah! Yoko Pocchio! Aspetta! Ma lui è primo però cosa l'ha fatto il tempo? Ah! Bene! Taffa! Allora... Io quando è che è? E c'è! Tu... Tu niente! No scherzo! Pure tu niente! Si dice che hai fatto niente! No! Significa io che ho fatto tutto il tracciato! Me l'ho proprio visto... Nel diretta live per me! Perché c'è l'occhiali se lo sapete! Oh! Sì! Io questo circuito già l'ho fatto! Già l'ho fatto! Come faggia? Come faggia caricati la mappa? Se a me mi sta ancora un quarto o un quinto Carica tu! Ecco!